Top and flop dei dati Outel di ieri, domenica 12 maggio. Al top abbiamo il talk show di Raiuno, che tempo che fa, con Fabio Fazio, che proprio nella settimana delle polemiche innescate dal vice premier Matteo Salvini sul suo cachet, registra una puntata da record con quasi 3 milioni e 600 mila spettatori, quindi davvero un ottimo risultato per noi al top. Una serata caratterizzata anche dal big match di Serie A, Juventus Roma, andato in onda su Sky Sport, risultato essere il quarto programma più visto della serata, nonostante fosse sulla PTV, appena dietro le Iene su Italia 1. Flop invece è il secondo programma più visto, ovvero New Amsterdam, la serie andata in onda su Canale 5, che non ha raggiunto neanche il 10% di share, quindi per noi tallonata appunto dalle Iene e da Sky Sport, quindi per noi è il flop di serata. Vi ricordiamo che tutti i dati di ascolto, le curve e le analisi li trovate sul sito tvzoom.it, noi ci vediamo domani.